Franco Zanardi, presidente onorario della Zanardi Fonderie, siete a METEF, ci racconti qualcosa della sua azienda? Sì, noi come principale produttore mondiale di chiese sferidari austemperate siamo qui al METEF perché il METEF è il luogo dei materiali innovativi. Noi siamo capaci di offrire delle soluzioni con il nostro materiale e le nostre ricerche sulle caratteristiche dei materiali di aiutare i progettisti a disegnare componenti più leggeri, più performanti e più sicuri.